Benvenute e benvenuti al 173esimo mercoledì di Nexa, che oggi si intitola Metaverso come logica spaziale del digitale e sarà tenuto dal professor Simone Arcanni dell'Università di Palermo. Simone Arcanni è un fello del centro Nexa che la nostra comunità conosce molto bene, ma per chi lo conoscesse oggi per la prima volta vi dico che lui è uno studioso, consulente, curatore e divulgatore di culture e media digitali, collabora con il Sole 24 Ore, film tv, digital world della RAI e tiene il blog post digitale nel Sole 24 Ore. Tra le altre cose dirige anche l'Online Campus, il Meta Lab di Napoli e l'Holden AI Story Lab. ha curato diverse mostre, fra cui Cinema IA, NFT, Cinema Futuri Passati, Facce Emozioni e tra i suoi libri ci sono Visioni Digitali, L'Occhio della Macchina e l'ultimo è Zona Oscura, Filosofia del Metaverso, dal quale penso trarrà diverse citazioni all'incontro di oggi. Come sapete questi incontri durano due ore, nella prima ora diamo la parola al nostro ospite, nella seconda ci confrontiamo con lui e facciamo anche solitamente un giro di tavolo per dirgli chi sono le persone presenti, ci sono visto anche molte persone collegate via internet, ma per comodità e per velocizzare l'inizio dell'intervento farei solo il giro di tavolo fra chi è qui di persona. Io sono Antonio Sant'Angelo, sono anch'io un figlio del Centonex e insegno segnotica delle culture digitali all'Università di Torino. Do una parola. Io sono Giuseppe Rocca, laureato in Comunicazione e Cultura e le Media all'Università di Torino e continuo a venire tutti perché mi piace molto. Io sono Valeria Bergantino e mi occupo della comunicazione e del Centonex. Prego. Lisa Chiara, sabiamese magistrale di Comunicazione e Cultura e le Media. Prego. Io sono Iago Ramos, non parlo in italiano, scusa. e sono visitato il professor all'Aon con Tiziana Pina e ho visto la... No, no, no. Sì, no, no. Sì, no. Sì, no. Prego, se si vuole presentare. Buongiorno. Buonasera. Così, appena. Io sono Leonardo e sconditorando, della Università di Science e Digital Technologies. Va bene così. Buongiorno. Buongiorno a Sia Martin, docente di corpo e tecnico e professore dell'Università. Bene, allora, Sia Martin, a te la parola e poi interagiremo. In finito. Va bene, tanto grazie. Grazie a Juan Carlos e scusa le spalle. E grazie a tutti dell'invito, mi fa sempre piacere parlare qui, davvero. L'intervento che farò oggi, che faccio oggi, è un intervento che vuole provare a scrutare, appunto, come scrivo qua in questa sorta di titolo, le logiche e le radici culturali del metaverso. Cioè, provare a interrogare il metaverso, non tanto come una tecnologia, quanto come a un sistema logico-culturale, un sistema o una logica culturale, che dialoga, si sostiene, viene generato da una o più tecnologie. Non è una cosa scontata perché, normalmente, nel dibattito, nel dialogo sul metaverso, si è invece voluto identificare il metaverso con una singola tecnologia immersiva, che nel caso specifico è la realtà virtuale. Ecco, la mia presentazione di oggi cerca di scardinare questa, possiamo chiamarla, monoversione, per provare a dare una definizione altra, più aperta, più comprensiva e, a mio parere, più specifica del contemporaneo della parola metaverso. Per fare questo, forse sarà scontato, ma dobbiamo ancora una volta fare un passo indietro, andare a scovare le radici del termine, per trovare, forse, già anche delle radici per il nostro discorso. Il termine, come ormai tutti sanno, deriva da un romanzo, un romanzo di fantascienza, o più nello specifico un romanzo cyberpunk, quindi quel particolare filone della fantascienza che da una parte deriva le proprie narrazioni, soprattutto dal noir, e dall'altra proietta il proprio fantasy, non tanto nella scoperta di mondi, incontri con marziani, ufo e via dicendo, ma nella descrizione del cosiddetto next future, di un futuro che sta per venire con delle implicazioni politiche. che normalmente sono delle visioni ovviamente distopiche di questo next future. Snow Crash rientra in questo filone, è un romanzo del 1992, scritto da Neil Stephenson, che è uno scrittore importante, ma non è soltanto uno scrittore, è anche uno studioso di cose digitali, di tecnologia, è stato consulente per esempio nel secondo mandato di Obama per la Casa Bianca, è stato uno dei consulenti di Magic Leap, la start-up acquisita da Google per la realtà mista, e quindi è da sempre alla doppia veste di osservatore e narratore. Questo ci sarà utile anche per capire questo primo momento. Il romanzo è del 1992. In Snow Crash, appunto, siamo in un next future, sul pianeta Terra, in un anno non ben identificato, del futuro evidentemente, in cui il pianeta Terra è diventato quasi inabitabile a causa delle differenze economiche, del cambiamento climatico, guerre, epidemie e via dicendo. L'unico sbocco, diciamo, per una vita che si presenta agra per quasi tutti i cittadini di questo mondo, è rifugiarsi in un mondo artificiale, in un mondo artificiale che appunto viene chiamato metaverso, cioè un universo alternativo, parallelo. Come si entra in questo metaverso? Si entra con il set tipico della virtual reality, un headset e le cuffie. Si entra in questo metaverso realizzato in computer graphic attraverso la costruzione, la realizzazione di un proprio alter ego o gemello digitale, che nel Stephenson chiama avatar, altro termine che poi ritorna anche negli usi e nella cultura digitale. Questo universo è ovviamente un gemello della Terra, tant'è che è sferico, la differenza è che è attraversato da un'unica strada chiamata The Strand, il modello di riferimento è evidentemente Las Vegas, intorno a cui sono stati costruiti degli edifici. Intorno alla strada ci sono gli edifici principali e poi tutto il resto che inizialmente è un deserto viene poi costruito poco alla volta da chi partecipa, chi ci costruisce, chi fa delle cose al proprio interno. Perché dentro il metaverso si fanno cose, si lavora, si va a scuola, si fanno amicizie, ci sono addirittura guerre di bande e rivali, quindi ci sono anche le stesse dinamiche riportate della vita reale, però come dice uno dei protagonisti è un po' meglio, le case sono un po' migliori, la vita è un po' migliore, le amicizie si possono frequentare facendo più cose, andando in club eccetera eccetera, è un poco meglio. Dalla uscita del romanzo, quindi del 1992, io lo ribadisco perché le date in questo mio racconto sono abbastanza importanti, dal 1992 fino al 2021, cioè quando c'è stata, adesso ne parleremo, la famosa conferenza stampa di Zuckerberg che ha rilenciato questo termine, ci sono obiettivamente molto poche occorrenze del termine metaverso, cioè si parla molto poco sia in ambito divulgativo che in ambito scientifico di metaverso, ci sono pochissime occorrenze. Questo lo dico perché l'identificazione che poi fa Zuckerberg con la realtà virtuale, con gli headset di realtà virtuale, è anche dovuta al fatto che andando a rifornirsi direttamente alla ponte è evidente che il gioco di rimandi è chiaro ed evidente per lui. Però va detta subito una cosa, rimanendo su Snow Crash, abbiamo detto che siamo nel 1992, spesso si è parlato di Neil Stephenson come una sorta di oracogliere, una sorta di mago che si era inventato chissà che cosa, si era immaginato una realtà prima che arrivasse. Beh, niente più lontano dal vero, Neil Stephenson, l'ho già detto prima, era un conoscitore di cultura ed è tuttora un conoscitore di tecnologia, conosceva Geron Lenyer e aveva già visto le cose prodotte da Geron Lenyer e soprattutto aveva parlato con Geron Lenyer e Geron Lenyer nel 1989 aveva fondato la BPL che era l'azienda che produceva, guarda caso, headset di realtà virtuale. La realtà virtuale era già stata approvata già fin dagli anni 60, la spada di Damocle e via dicendo, ma Geron Lenyer è il primo che realizza dei prototipi, intanto che funziona, secondo luogo, completamente digitali e intenzologo che vanno sul mercato. E infatti nel 1991, che presumibilmente è l'anno in cui Neil Stephenson scrive Snow Crash, visto che esce nel 92, Geron Lenyer è andato sul mercato sia con il visore che con, qui si vede non benissimo, con il glove, il guanto di sensori che permetteva di manipolare appunto il mondo artificiale realizzato per la realtà virtuale. Dico questo non tanto per sminuire il potenziale di Neil Stephenson, quanto perché il legame tra Stephenson e Lernyer è interessante, perché Lernyer nel momento in cui esce con queste tecnologie, esce anche con una serie di articoli, spesso divulgativi, a tratti filosofici, lui ha sempre avuto questo fare un po' filosofico, in cui dice delle cose molto interessanti, che per lui l'headset, il glove e il glove sono un primo passo. Un primo passo per che cosa? Per creare un sistema digitale alternativo a quello di schermo, tastiera e mouse e che sia completamente spaziale. Usa proprio questo termine. Cioè per lui non era interessante l'immersione di per sé, ma il fatto che l'immersione permettesse l'accesso a una logica digitale che non era più quella testuale, cioè una serie di testi trattenuti in database, ma era spaziale. Cioè io le mie produzioni, le mie fruizioni, le mie esperienze le faccio dentro uno spazio alternativo, artificiale, aumentato, virtuale, come lui l'aveva chiamato, ma dentro uno spazio. Cioè pone il seme di una, secondo me, fondamentale logica nuova del pensare il digitale. Cioè pensarlo in una dimensione completamente spaziale. Ecco che lì si capisce qualche cosa di più, a mio parere, di quello che è e potrebbe essere lo sviluppo del del metaverso come questione culturale. Ma lasciamo il 1992 e arriviamo appunto al 2021. Dicevo, dal 1992 al 2021 le occorrenze del termine metaverso sono veramente poche. Dal 2021 in avanti sono accelerate. Ed è dovuto tutto alla famosa conferenza di marzo, se non sbaglio, in cui Mark Zuckerberg annuncia che la holding, cioè la compagnia che detiene le sue compagnie Facebook, Whatsapp, Oculus, fondamentalmente, cambierà il nome in meta proprio perché si indirizzerà verso la costruzione di quelli che lui appunto chiama metaversi, rifacendosi chiaramente, evidentemente, palesemente e attestandolo al testo di Neil Sticherson. L'idea di Zuckerberg è assolutamente chiara. Costruire una realtà artificiale in cui si accede attraverso Avatar, qui era il giorno di Halloween in cui Zuckerberg fece vestire il suo avatar con lo scheletrino come io e mio figlio, e l'idea è proprio quella di identificare il metaverso con la realtà virtuale. Cioè l'idea di un mondo virtuale realizzato in computer graphic, a cui si accede attraverso un alter ego digitale, un gemello digitale chiamato avatar, in cui si entra e appunto si gioca, si comunica, si fanno quelle cose che si fanno con Whatsapp, Facebook, ma anche il mondo del lavoro e via dicendo. Zuckerberg ha in mente quella cosa lì e punta direttamente a questo. I motivi possono essere tanti. I più cattivi dicono che il problema era di riorganizzazione di un sistema industriale che non stava funzionando. Cioè dall'uscita di Oculus, con gli Oculus Rift quattro anni prima, cinque anni prima scusatemi, c'era stata una comunicazione nei confronti della tecnologia e della realtà virtuale come se dovesse esplodere da un momento all'altro e in effetti il mercato non era esploso. I maligni dicono che dietro la trasformazione della VAR in metaverso ci fosse la voglia di provare a dare anima a uno scomparto industriale che non stava funzionando. Tenendo conto che due anni prima, proprio puntando sull'esplosione di questa industria, proprio Zuckerberg aveva comprato Oculus. Quindi si trovava ad avere due dei più importanti social network e la più importante azienda, forse assieme alla Gear, di produzione di hardware della realtà virtuale. Era evidente il tentativo di mettere insieme queste cose. La cosa ha funzionato, cioè la comunicazione di Zuckerberg, che è continuata anche dopo la famosa conferenza stampa e che ha continuato a puntare su questa identificazione del metaverso con una tecnologia specifica, cioè gli helmet di realtà virtuale, è diventata luogo comune sui giornali, nella divulgazione scientifica. Ha trovato persino in qualche modo un suo cantore, cioè un filosofo della cultura digitale, chiamiamolo così, Matthew Ball, che all'inizio con i post sul suo blog e poi mettendo assieme le sue riflessioni nel libro che è arrivato anche in Italia col titolo Metaverso, cosa significa chi lo controllerà e perché sta rievoluzionando le nostre vite, diventa il cantore di questa identificazione, metaverso con la realtà virtuale. Il cantore tra l'altro di una opzione futuristica e futuribile della realtà virtuale che era quella dell'interoperabilità. Cioè a Matthew Ball, ma anche Zuckerberg, che ne parla più volte nei suoi interventi, quello che interessa non è soltanto identificare il metaverso con il mondo creato attraverso una computer grafica e a cui si accede solo e unicamente con gli headset di realtà virtuale, almeno fino al 2023. E poi cambia idea anche Zuckerberg. Ma che questi mondi debbano essere interoperabili. Cioè la sua idea, l'idea di Matthew Ball e l'idea di molti è quella che di lì a poco ci sarà un update in qualche modo, un cambio di passo per cui tutte quelle che adesso sono delle isole di realtà virtuale, vari siti, piattaforme e via dicendo, si connettono, si uniscono e l'utente può entrare in una e passare nelle altre portando dietro di sé il suo storico, le sue memorie, le sue fotografie, le sue immagini, i suoi NFT, tutto quello che ha in qualche modo acquistato e costruito, accatastato nella sua esperienza nella realtà virtuale. Matthew Ball stesso dice cosa molto difficile, c'è un problema di standard, c'è un problema di dialogo tra aziende diverse, c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di economie e via dicendo, però dice è un progetto assolutamente realizzabile e alla portata. Ecco, tra il 2021 e il 2022 siamo all'interno di questa logica. Il metaverso si identifica completamente con la tecnologia della realtà virtuale e il progetto avvenire è quello di costruire un mondo artificiale come se fosse una sorta di arciperago fatta di tante isole che però sono collegate e sono collegate. Il problema è che questa cosa non è avvenuta, non sta avvenuta, non sta avvenendo e gli stessi player che sarebbero dovuti essere, i sostenitori, gli edificatori di questa logica stanno venendo meno. Faccio solo degli esempi, VRChat è una piattaforma che si doveva alleare con altre, non si è alleata con altre e soprattutto non sta incrementando, è vero che non sta perdendo ma non sta incrementando in nessun modo il proprio numero utenti. Piattaforme che si presentavano come capaci di aggregare molti più spazi come War Room ha chiuso, a gennaio ha chiuso ufficialmente, è andata in bancarotta. Molti altri di questi luoghi non pensano più in nessun modo e in nessuna maniera a intersecarsi e essere interoperabili. Lo stesso Zuckerberg e i suoi, come si può dire, le persone che lavorano con lui, nelle conferenze non parlano più né di interoperabilità né di modello tecnologico unico, tant'è che l'ultimo Oculus prevede la realtà aumentata, la realtà mista e nelle loro dichiarazioni dicono che per loro è metaverso anche quelle realtà 2D visibili a schermo che sono navigabili e immersive e dicono anche che su questo stanno pensando di fare operazioni. Quindi quel monolito, quella ortodossia unica che vedeva l'identificazione del metaverso in una tecnologia è caduto sia a livello industriale, sia a livello sistemico, sia a livello culturale. Ma se noi cominciamo a guardare nella storia che porta dal 1992, Neil Stephenson, al 2021, Mark Zuckerberg, noi cominciamo a vedere dove veniva già eroso questo sistema e questa ortodossia monolitica e soprattutto riusciamo a vedere e intuire dove potevano essere i sintomi e le emersioni di logiche un po' diverse. Intanto qui abbiamo nel 2003 un universo che può essere definito metaverso, in maniera senza creare danno, è Second Life. Vi ricordate Second Life era un mondo che tra l'altro in quel periodo ebbe un successo clamoroso, non si parlava altro sui giornali che di Second Life, questo poi è anche una caratteristica degli hype tecnologici, sembra che a un certo punto non esista altro che il metaverso, gli NFT e poi sei mesi dopo, cosa, chi, quando, perché, però questo è un altro discorso, è un'altra conferenza. No, invece Second Life è interessante. Second Life che cos'era fondamentalmente? Era un'architettura che nasceva dai videogame, usava un motore grafico tipico dei videogame, si presentava con un'estetica da videogame, aveva le stesse caratteristiche dei videogame, cioè si entrava con un proprio personaggio, ancora una volta un avatar, si andava avanti, indietro si partecipava, si creavano connessioni, si vedevano cose, si potevano fare tutta una serie di operazioni. L'unica differenza rispetto ai videogame, diciamo, tradizionalmente inteso, era che il goal, l'orizzonte più marcato di Second Life, era quella di creare un ambiente sociale, cioè di permettere alle persone di andare dentro e fare amicizia, scambiare testi, condivisioni e via dicendo. Allora lì c'era già qualche cosa di interessante, c'era l'idea che un universo artificiale, costruito secondo delle logiche spaziali, poteva essere fatto, realizzato e fruito con sostegni tecnologici diversi dall'headset della realtà virtuale. Quello è già un passaggio interessante, un passaggio che con un altro salto temporale, in qualche modo, aveva intuito anche qualcun altro. Perché tutti si ricordano della conferenza stampa del 2021 di Mark Zuckerberg, ma ci si dimentica che sei mesi prima, nel 2020, nell'autunno del 2020, ci fu un'altra conferenza stampa molto interessante, del CEO di Epic Games. Epic Games nella nostra storia ha un ruolo molto importante, molto significativo. Epic Games è l'azienda che ha due cose per noi importanti. Fortnite, uno dei videogame più famosi e quelli con maggior numero di utenti, business e via dicendo, al mondo, ma è anche la proprietaria di Unreal Engine, cioè il motore grafico che assieme a Unity è più usato per i videogame, per gli effetti speciali del cinema, per la realtà virtuale e così via. Ecco, il CEO di Epic Games, parlando di Fortnite, in una conferenza stampa disse, abbiamo notato, noi di Fortnite, che nell'ultimo anno, la maggior parte delle persone che entrano in Fortnite, intanto hanno dai 16 ai 25 anni. E questo è un dato di marketing, più o meno interessante, legato a te. Ma abbiamo notato che la maggior parte di queste persone, ma con una percentuale dell'80%, non entra per giocare. Fortnite è un gioco. Non entra per giocare. Entrano, fanno amicizia, si scambiano opinioni, fanno, addirittura sono nate fidanzamenti e via dicendo. Cioè, a un certo punto lui dice, noi siamo partiti per fare un videogame, abbiamo creato un social network. E poi aggiunge, anzi, abbiamo creato un metaverso. Attenzione. Per lui, metaverso, era proprio quella cosa lì, quell'immagine lì di secolare. Il metaverso non era più identificabile con una tecnologia, ma era qualsiasi luogo artificiale in cui si poteva entrare e in qualche modo mimare, imitare la vita reale. Cioè, scardinava completamente il modello monolitico che da lì a qualche mese avrebbe costruito e costituito Zuckerberg andando a rifarsi a Nils-Diffenson e invece andava a riprendere Geron Lerner. Andava a riprendere, senza citarlo, quindi questa è una mia supposizione, il fatto che conoscesse Lerner più che Nils-Diffenson andava a riprendere l'intuizione di Geron Lerner. Cioè, il fatto che si poteva creare con tecnologie diverse, con approcci tecnologici diversi, con dispositivi diversi, dei mondi artificiali, alternativi, partecipabili, interattivi, e che questi sarebbero stati chiamati metaverso. Allora, lì, secondo me, c'è davvero un'idea molto interessante, che è quella del digitale spaziale, che a mio parere è da rintracciare nell'intuizione di Geron Lerner sul fatto che creare un mondo artificiale era creare uno spazio artificiale per vivere una vita artificiale, quindi destinare parte del nostro consumo digitale a una vita in un mondo artificiale piuttosto che andare a cercare o prendere testi vari. Qui apro una parentesi, poi non abbiamo il tempo qui per destinare un'argomentazione più appropriata e più approfondita. La dimensione culturale spaziale non è una cosa che nasce col digitale, è una cosa che si stratifica nel tempo. Se si legge Panosky, si vede come l'idea di rappresentazione del Rinascimento per lui è una logica spaziale, una visione del mondo come logica spaziale. Victor Hugo in Notre Dame de Paris, per chi l'ha letto, a un certo punto presenta un personaggio che se la prende contro i libri, che erano appena... Notre Dame è ambientato qualche anno dopo la macchina di Gutenberg, se la prende contro i libri perché dice che stanno rivoluzionando, distruggendo il nostro mondo culturale, che invece è un mondo culturale spaziale. La cattedrale era la nostra cultura, era lì che noi ricevevamo le nostre informazioni, facevamo le nostre esperienze, le facevamo in maniera spaziale, cioè entravamo e fruivamo la messa, il mercato, perché nelle cattedrali gotiche che si faceva al mercato, fruivamo l'idea di, come si può dire, ricevere nozioni rispetto alla religione, con i dipinti, con le storie sacre, con le parabole disegnate e via dicendo. Era una logica spaziale. Infatti il cardinale Frollo dice, maledice i libri che stanno distruggendo un modo di pensare, una logica culturale completamente spaziale per portarla a una dimensione invece scritta, testuale. Fulcanelli, che è stato l'ultimo grande alchimista a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, dedicherà un libro meraviglioso dei cattedrali gotiche, proprio andando a spiegare quello. Erano dei dispositivi tecnologici con cui il mondo e tutte le sue stratificazioni sociali, dai più poveri al clero, i nobili, eccetera, ricostruivano il loro modo di stare nel mondo. Ricostruivano qual era il loro posto nel mondo, la gerarchia, che era la cosa più importante per l'epoca, sapere come si stava nel mondo, quale logica culturale determinava il mondo. Ed era una logica spaziale. Quindi non nasce col digitale, viene riconsiderata, ripresa, riletta e riorganizzata alla luce di nuovi dispositivi. La cattedrale era il dispositivo del III del Quattrocento, oggi ci sono dei dispositivi diversi. Questo passaggio da Second Life a Fortnite mi permette di dire anche una cosa, che è vero che di metaverso si parla poco, ci sono poche occorrenze del termine metaverso dopo Miss Stephenson, però è anche vero che invece se noi cambiamo qualche parola e mettiamo dataverso, digitalverso o artificial reality, le occorrenze anche in campo scientifico, sia in campo informatico, sia in campo filosofico, sia in campo culturologico, narrativo, sono invece moltissime. Cioè se è vero che la parola metaverso ricorre poco, abbiamo un ricorrere della parola dataverso, digitalverso, artificial reality e via dicendo, molto, molto, molto frequentato. Cioè sono parole che ritornano spesso nelle disamine critiche, tecnico-scientifiche, filosofiche, letterarie, tra il 1992 e il 2020. Quindi c'è un qualche cosa, c'è un humus logico-culturale che è determinato in questo periodo. Ed ecco che infatti, come vi dicevo, il CEO di Fortnite in qualche modo va a puntare l'attenzione. E puntando l'attenzione su questa dinamica spaziale ci fa capire anche che la logica culturale spaziale del metaverso, per come la conosciamo oggi, è una logica che va cercata, le sue randici vanno cercate nel gaming, nel videogame. E più in particolare in alcuni game, quelli partecipati, i cosiddetti Massively Multiplayer Online Game, per esempio, tutti i tipi di role gaming e via dicendo, hanno proprio questa dimensione. Cioè costruiscono delle architetture aperte in cui l'utente è chiamato a identificarsi, questo è un passaggio fondamentale, identificarsi, partecipare, interagire, costruire, ma soprattutto esperire in maniera immersiva, dentro una logica di intercomunicazione ampia. E questa è appunto una cosa che fanno i gaming. Non è un caso che il metaverso lo si voglia fare con la realtà virtuale, con la realtà aumentata, con la realtà mista, si vogliano usare i cave immersivi, piuttosto che la fotogrammetria o il videomapping e via dicendo, normalmente si usano i motori grafici che provengono dai videogame. In questo momento, stavo leggendo un articolo del Sole 24 Ore di qualche mese fa, il mercato dei motori grafici, Unity e Unreal Engine, assieme lo coprono per circa il 70-75%, quindi siamo quasi in un regime di monopolio. Mi dicono, adesso fa magari, voi ne sapete più di me, che in questo momento Unity ha una spinta in avanti e sta mangiando molto mercato ad Unreal Engine. Ma, indipendentemente da quello, funzionano con logiche molto simili, il motore grafico, che quindi non è una tecnologia, è il dispiegare una possibile costruzione architettonica, è il seme, è il DNA più vero del metaverso. Stavo dicendo, prima, scusate, intanto ve lo... se allora il metaverso lo possiamo definire la logica spaziale del digitale contemporaneo, o meglio, una delle logiche del digitale contemporaneo, quella più emergente, quella che ha delle prospettive probabilmente di mercato più interessanti, allora bisogna cominciare a chiedersi quali sono le origini di questa... dove possiamo andare a trovare delle radici teoriche, critico-teoriche, all'idea che ci possa essere, possa essere costruito un sistema di riferimento spaziale del digitale. Si possono ritracciare, sia a livello industriale, che è un sistema di riferimento oggi come oggi la maggior parte dei laboratori che prima erano divisi tra XR, cioè tutte le esperienze immersive, XR sta per Extended Reality, quindi Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, fotogrammetria, videomapping, erano uno scomparto a sé stante e si affiancava lo scomparto dello Spatial Computing, che invece era tutto quello che aveva a che fare con la casa robotica, la Smart City fondamentalmente, i sensori, la sensoristica, gli assistenti vocali, storicamente quello era il settore dello Spatial. Oggi la maggior parte dei laboratori convergono, cioè dove si studia XR si studia, dove si progetta. XR si progetta anche Spatial. A testimonianza di questo è l'ultimo summit, il World Summit in Spatial Computing che si è tenuto a febbraio di quest'anno, scusate, io non me lo sono segnato, per la prima volta aveva tavole rotonde, approfondimenti, tolc e via dicendo, sia di Spatial, tradizionalmente detto, sia di XR. Erano assieme, erano assolutamente senza più divisioni e questo a testimoniare una identificazione, un'ibridazione totale che va verso questa dimensione molto più ampia in cui il metaverso non si identifica quindi più in una tecnologia e nemmeno in un gruppo di tecnologie, ma si identifica in una logica per l'appunto spaziale della tecnologia digitale in assoluto. questo dal punto di vista prettamente e meramente industriale, economico, commerciale. Da un punto di vista critico-teorico forse, ma questi sono solo degli spunti, quindi non sono ancora arrivato a un'elaborazione più ampia, ma sono degli spunti di ricerca. il libro che Antonio Sant'Angelo citava prima, La zona oscura, è stato per me la pubblicazione di una serie di studi che hanno portato appunto alla ridefinizione del metaverso come logica spaziale del digitale contemporaneo. Adesso sto provando a capire questa logica spaziale quali radici ha, dove andiamo a trovare queste radici critiche e teoriche. E sto cominciando, quindi ve li sto offrendo come spunti di riflessione. Io penso che da una parte sia fondamentale ritornare all'idea di ecologia di Gregory Bateson, cioè all'idea che, vi ricordate negli anni Sessanta Bateson e Marvin Minsky hanno una sorta di scontro attraverso una serie di paper a proposito dell'intelligenza, ma l'intelligenza è molto legata anche a questa logica di spazialità. Bateson metteva un po' in crisi il modello che l'MIT stava sviluppando di intelligenza artificiale come costruzione, io fornisco una serie di funzioni, sempre più funzioni finché non riesco a riprodurre una sorta di mimesi del cervello. Bateson diceva no perché il cervello non funziona così, il cervello funziona perché ha un corpo, perché questo corpo sente la pioggia, sente il sole, prova amore, prova affetti, perché questo corpo condivide uno spazio con gli animali, con le pietre, con gli oggetti, fa un lavoro di intelligenza come di uno spazio che si espande e si contrae nel singolo, cioè i singoli individui hanno un'esposizione allo spazio che è continuamente di amplificazione e contrazione rispetto alle proprie esigenze e ai propri scambi. E lui dice questo è il termine più vero di intelligenza e questo probabilmente dice Bateson deve essere la linea verso cui vanno le ricerche appunto sul digitale in particolare lui si riferisce all'intelligenza artificiale. Però in questo termine di ecologia che tra l'altro riprende la fenomenologia in particolare la fenomenologia di Merleau-Ponty secondo me c'è un tema molto interessante rispetto a una logica culturale spaziale che ha a che fare con il digitale contemporaneo. Un altro punto di riflessione per me molto interessante è quello un po' più scontato di David Weinberger se lo conosciate tutti il suo testo sulla stanza intelligente quando parlando di internet diceva lui pone due punti per me fondamentali uno il digitale non è la somma di tecnologie e dispositivi ma è una somma di ambienti cioè il digitale non crea realmente dei dispositivi ma crea degli ambienti internet secondo lui era il macroambiente più palese più emblematico del suo discorso e lui diceva in internet come ambiente io entro e metto le mie conoscenze le mie esperienze posso mettere un database personale ognuno di noi mette un database personale addirittura dentro internet ci sono dei database che non sono di proprietà di un individuo ma sono collettivi o addirittura artificiali ma nonostante questo il più intelligente di tutti nella stanza è sempre la stanza perché la stanza digitale è talmente ricettiva che crea continuamente delle memorie e delle possibilità di combinare quelle memorie per cui sulla carta è la stanza il soggetto il player più intelligente ecco in questa dimensione di spostare l'attenzione sull'ambiente e spostare l'attenzione sulla 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 capacità di questo ambiente di essere ricettivo di essere partecipato partecipante e via dicendo ecco anche anche in quello secondo me c'è uno spunto interessante scusate non solo che ho l'angola secchissima perdonare e l'altra teorizzazione invece molto più dal punto di vista tecnologico è quella di Myron Kruger Myron Kruger è uno dei padri della computer graphic già negli anni settanta fa esperimenti di appunto sia di immagini digitali che di immagini di sintesi quindi di immagini realizzate attraverso la digitalizzazione di immagini precedenti sia la generazione di immagini propriamente dette appunto la computer graphic poi sarà uno dei grandi nomi dell'imaging e della computer vision e già negli anni settanta lui usa il termine artificial reality proprio per designare ciò che per lui è la computer graphic non è una tecnologia secondo lui non è soltanto una opzione una capacità una capacità di un dispositivo di creare degli ambienti ma è proprio un ambiente è un ambiente che secondo lui va studiato a sé stante Myron Kruger nel suo libro omonico artificial reality spiega tecnicamente come realizzare la computer graphic parla dei punti vettori e via dicendo ma poi comincia a spiegare che cosa è secondo lui quel mondo ed è un mondo appunto artificiale e alternativo che secondo lui deve essere studiato sì dal punto di vista informatico ingegneristico per come è costruito ma che sarebbe interessante lui spera che sia così che venga attraversato da studi critici dell'etnografia dell'antropologia della semiotica forse la semiotica non la cita espressamente un po' presto ma probabilmente anche se sul suo siamo già agli anni 60 però parla anche di letteratura di immaginari di storia degli immaginari di arte cioè vede l'artificial reality cioè il complesso del potenziale messo in campo dalla computer graphic come un mondo a sé stante che deve essere attraversato in maniera critica filosofica per l'appunto da degli studi specifici che lo studino proprio come un ambiente a sé come uno spazio a sé abbiamo anche dei filosofi contemporanei che si stanno occupando proprio di questa definizione che in qualche modo l'avvento della virtual reality e poi dell'augmented reality l'accesso al mercato sulla mix e via dicendo stanno facendo nascere delle come si può dire delle teorizzazioni critiche molto interessanti sul contemporaneo tutte che partono da punti di vista diversi che mettono in campo sistemi critici reference filosofiche culturali diverse ma che convergono nella necessità di definire un campo e questo campo è la dimensione spaziale del digitale contemporaneo cito per esempio quello che piace di più perché è il più allucinato di tutti è Marcus Gabriel nel perché non esiste il mondo dove mette in crisi tra l'altro se non erro con l'introduzione di Maurizio Ferraris quindi visto che abbiamo il Lavont presente mette in crisi l'idea stessa di ontologia arrivando al paradosso lui dice a mio parere e studiando ontologicamente questi nuovi mondi digitali io posso affermare a un certo punto lui dice e vi do tutta la colpa a Marcus Gabriel l'universo non esiste ma gli unicorni sì ovviamente lui fa tutto un processo in cui studia gli impatti dell'immaginario e studia come essendo più impattanti di alcuni oggetti che noi definiamo reali sono più veri del vero e quindi hanno più hanno in qualche modo più 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 modo di essere sentiti e percepiti come reali ma quello che mi interessa di Marcus Gabriel non è tanto il suo percorso ontologico quanto il fatto che ripropone in una chiave diversa le riflessioni e le intuizioni fondamentalmente ancora una volta di Merleau-Ponty e lo fa però in un ambiente digitale cioè prendendo in considerazione un ambiente fortemente definito caratterizzato da immagini immaginari artificiali virtuali sintetici e questo per me è interessante perché va a costruire a costituire un sistema di pensiero che prova a interrogare e indagare il digitale come sistema spaziale ma prima di lui quasi vent'anni prima c'era già stato David Gelder con Mirror Worlds in cui appunto parlando della capacità dei mondi digitali di essere specchio del reale provava a fare un gioco di riflessi scusate gioco di parole con la parola specchio appunto di riflessi continui tra ciò che imputiamo le funzioni che imputiamo alla realtà e le funzioni che invece imputiamo allo specchio della realtà andando a vedere come spesso si sovrappongono o comunque hanno un'ibridazione profonda o addirittura uno scambio di funzioni che non ci aspettavamo forse il teorico il filosofo che sta lavorando di più non so se è meglio ma di più su questa emergente logica spaziale del digitale è probabilmente David Gelmers in particolare mi riferisco a Reality Plus che in italiano è stato tradotto con più realtà secondo me non è bellissimo rispetto a Reality Plus è un po' diverso David Gelmers con gli strumenti delle neuroscienze della filosofia della fenomenologia e via dicendo sta provando a ridefinire i concetti di realtà e attraverso questi lo statuto di realtà a partire da questa forte emergere di realtà virtuale ripeto in questo momento per me sono spunti è una mappa che sto provando a costruire e che mi fornisce delle chiavi di lettura interessanti stiamo parlando del presente però mi sono lasciato per ultimo uno spunto interessante perché in questo gioco di date che vi ho proposto fino adesso dal 1992 di Stephenson al 2021 di Facebook di Zuckerberg si situa quasi nel mezzo se avesse giocato in anticipo di due anni sarebbe stato perfettamente alla metà e la mia parte logico-razionale avrebbe goduto tantissimo si situa però nel mezzo questo saggio il filosofo digitale austriaco Stefansson Villavice il testo si chiama Invisible Learning to Act in the Metaverse che è importantissimo abbiamo detto che non ci sono praticamente occorrenze del termine metaverso tra il 1992 e il 2021 stavo un po' giocando una c'è ed è pesante perché Stefansson Villavice in questo testo che tra l'altro è un testo sull'invisibile cioè su tutto ciò che noi pensiamo invisibile che invece emerge oggi come visibile quindi parte da Hubble ai microsensori alle TAC digitali eccetera eccetera in questo discorso lui a un certo punto ci dice ma tutto questo sta dentro un nuovo sistema che chiamo metaverso da questo punto di vista il testo è rivoluzionario perché metaverso non è più l'identificazione con la tecnologia non è più la realtà virtuale non è più nemmeno la computer grafica metaverso è un sistema digitale contemporaneo che non si vincola a nessuna tecnologia specifica a nessun dispositivo specifico ma che si declina di volta in volta appunto nelle funzioni di spazializzazione cioè di esperienza spaziale dentro i sistemi digitali per lui il metaverso è la somma di Google Maps per esempio Google Earth i sensori della Smart City gli assistenti vocali per lui il metaverso è la casa quando noi entriamo e chiediamo a Siri di accenderci la televisione o di dirci che ore sono o di chiederci se c'è da fare la spesa perché abbiamo uno smart frigo che quindi mi dirà nel mio caso vuoto 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 empty empty e quindi gli chiedo scusate come fare gli spaghetti alla carbonara e fare la spesa ma a parte gli scherzi per Stefan son Villavice metaverso è un sistema complesso in cui intervengono hardware e software differenti che creano un'esperienza spazializzante del digitale nel momento in cui la nostra esperienza del digitale è fortemente connotata dalla dimensione spaziale quello per Stefan son Villavice è un metaverso è il metaverso e per lui già nel 2009 è la logica culturale digitale emergente cioè quella che ha più probabilità secondo lui di emergere non di sostituire ma di affiancare quanto meno la logica a archivi di testi che vengono in qualche modo ripresi attestati combinati ricombinati e via dicendo che è quella con cui noi siamo abituati a convivere l'ho già detto prima c'è una convergenza tra special computer e XR ho già parlato di David Chelmers volevo fare un'ultima notazione che la logica spaziale ripeto ancora una volta che si slega da l'identificazione con uno specifico dispositivo o addirittura con un gruppo specifico baridotto di dispositivi sia una delle logiche preeminenti secondo me lo si ritrova non solo a livello industriale non solo a livello critico filosofico ma lo possiamo ritrovare anche nelle pratiche dell'attivismo digitale tra le pratiche che sono più realizzate viste condivise in territori dell'attivismo penso a 4 chain uno fra tutti c'è quello degli spazi liminali o delle back rooms che cosa sono gli spazi liminali sono quella definizione appunto di spazi che non si identificano più né nello spazio reale né nello spazio virtuale ma che lavorano attraverso interfacce culturali o tecnologiche a una continua la creazione di quella che Deleuze chiamava una piega cioè un luogo che non è più identificabile né con uno prima né con uno dopo ma che sta in qualche modo nel mezzo le back rooms invece sono un gioco un gioco di immaginario non so se l'avete mai incrociato nella vostra nella vostra vita io mi sono appassionato un pazzo back rooms erano nate appunto dentro 4chan erano cominciate ad apparire immagini create in computer graphic di spazi uncanny perturbanti di solito si riferivano agli immaginari degli anni 50 americani le case i salotti buoni con il televisore oppure le camere di hotel con la la moquette dappertutto o i corridoi di camere di hotel o addirittura i grandi come si chiamano i i luna park ma svuotati di persone un po' decadenti un po' lasciate sembrava di entrare in un film di David Lynch tanto per capirci queste immagini cominciavano a emergere senza nome senza titolarità senza autore col titolo di backrooms e a un certo punto venivano fuori le leggende cos'erano le backrooms erano i posti in cui se voi come i giocatori entrano in posti non conoscendo e poi non riescono ad uscire se qualcuno va nella realtà virtuale senza avere le giuste conoscenze si ritrova in questi luoghi il proprio avatar si ritrova in questi luoghi e non ne può più uscire luoghi assolutamente perturbati in cui non ne può più uscire si scoprì dopo che era un lancio di mercato di un film neanche andato troppo bene tra l'altro che si chiamava appunto backrooms ma quello ha generato molte altre backrooms da parte di artisti di attivisti e via dicendo e soprattutto ha attivato un percorso teorico sulle backrooms che hanno usato le backrooms ovviamente non per quello che erano erano una leggenda metropolitana ma per quello per l'immaginario che andavano a sviluppare cioè il fatto di essere luoghi perturbanti in cui si avveravano delle paure spaziali del digitale cioè il digitale aveva talmente stava talmente avvocando a sé funzioni pensieri logiche spaziali che avocava a sé addirittura una sorta di coscienza spaziale perturbante digitale che sono le backrooms e lì i discorsi hanno cominciato a essere interessanti perché le backrooms hanno cominciato a occuparsi i filosofi assieme ad artisti assieme ad attivisti andando a definire questi come i posti più veri dove si inscenano le paure più reali legate all'emergere per l'appunto di una logica culturale digitale nuova emergente e quindi di per sé paurosa io con due minuti di anticipo avrei finito vi ringrazio per l'attenzione e spero che ci sia modo di dibattere e dialogare su quanto è stato detto grazie allora intanto chiederei a Giacomo se può far comparire anche il chat di chi è collegato così se vogliono porre delle domande a Simone da remoto io lo posso vedere ok perfetto quindi adesso io come moderatore raccolgo le domande che volete porre a Simone immagino per esempio che Giacomo vorrà interagire con lui visto che si è occupato di Metaverso ma comunque do la parola a tutti e poi se nessuno la prende me la prendo io mi giro in caso vorreste insomma qui c'è il deserto del Sarra quando ti finisce ce ne abbiamo ancora te la prepariamo grazie non so cosa ne ho preso prego vorrei per una che questa è la day group questa settimana questa settimana scorsa che in internet ha scoperto dove era la prima foto del day group ah vero sulle blog del 3.0 certo c'è una studio dove siamo trovata la ok la prima foto è mia rigida grazie è un'azienda dei mobili ok va bene tra vedere grazie va bene vuoi chiedere tu perché ma allora Simone io Io voglio seguirti su questa strada del tenere insieme, diciamo, nella definizione di metaverso sia, diciamo, lo special computing, quindi comunque la creazione di basi di dati sulla realtà, e invece i videogiochi, che invece sono mondi di finzione, quindi tu cerchi di tenerli insieme con questa metafora dello spazio, perché sono comunque, diciamo, delle simulazioni, che è una parola che stranamente tu non hai usato in questa tua presentazione, quindi delle simulazioni della nostra esperienza dello spazio, e lo sottolineo simulazioni, perché quando tu parli delle cattedrali, invece nelle cattedrali eravamo nello spazio, no? Quindi, quando tu dici, ah, ma già noi nel tempo facevamo esperienza della cultura attraverso lo spazio... Sì, scusami, nella prospettiva però non eravamo, eravamo in un dispositivo. No, io parlavo della cattedrale, è chiaro che la prospettiva è ancora un'altra cosa, ma nella cattedrale c'eravamo, qui invece creiamo delle simulazioni della realtà, ecco, e io ti seguo di più su quello che non sulla prospettiva, perché poi alla fine la prospettiva è una cosa bidimensionale, c'è un oggetto bidimensionale, che noi sappiamo che è un quadro, no? Invece tu ci parli anche chiaramente di immersione, no? Immagino dentro a... Sì. E allora, ecco, ti volevo chiedere, secondo te questo concetto di simulazione della nostra esperienza spaziale è rilevante per cercare di capire che senso ha che noi diamo così tanta importanza al concetto di metaverso oggi, oppure invece noi ce lo dimentichiamo che è una simulazione e siamo felici di stare dentro a un mondo che invece citando vari filosofi che hai citato ci sembra reale, no? Si fermò, restando che poi, voglio dire, Ferraris lo diceva che hanno un'ontologia anche in ogni definizione, no? Chiaramente però è un'ontologia diversa rispetto alla realtà in cui viviamo. Quindi questa è la mia prima domanda, te ne faccio un'altra. Non hai, per quanto mi riguarda, tanto sottolineato, proprio per la natura del tuo intervento, il valore della parola meta, no? Cioè nel metaverso, no? Perché meta vuol dire sopra, oltre, al di là. Invece con questa questione della metafora spaziale che in qualche modo ci riconduce alla nostra esperienza reale, no? Dello spazio viene un po' meno, no? L'idea del meta. Cioè qui siamo in media che costruiscono un altro spazio ontologicamente diverso da quello a cui siamo abituati, però in cui ci piace stare. Qui invece, secondo te, la dimensione meta, del metaverso, che vuole anche dire, secondo me, se la colleghiamo alla nozione di simulazione, è stare in degli spazi che simulano quello reale, ma da cui noi ci possiamo staccare per prendere le distanze e magari anche ragionare, no? Su il senso di come funziona lo spazio reale. È significativa per capire il metaverso oppure no? Proprio ci dobbiamo dimenticare che è meta e dobbiamo entrare nel verso. Allora, parto dalla seconda. Nel senso che io sarò chiaro. Secondo me, la parola metaverso ce la siamo trovati. È brutta. Per me è brutta. Ma avendo una... Ma è brutta, ma non perché non mi piace il suono che dà, eh. È brutta perché, secondo me, appunto, meta ha tutta una serie di implicazioni. È vero che è sopra, ma non è... È anche vero che nella storia è venuto a significare ciò che sta dentro anche. Pensa al metacinema, no? È il cinema che rappresenta se stesso. Né Stephenson ha idea di usarla come termine che significa universo parallelo, quindi né sopra né sotto. Quindi è un termine che apre a delle connotazioni semantiche talmente tanto ampi che non ha un grande valore. Non piace nemmeno troppo a me questa parola. Però ce l'abbiamo e si è insinuata, si è incuneata, si è stratificata, ha una sua storia. E secondo me serve a una buona funzione, cioè serve a spiegare bene, appunto, questa dimensione di una logica spaziale. Che in parte è illusoria, in parte mimetica, in parte simulativa. Però in parte tende, vuole, prova a diventare alla Matrix, in parte invece ci sta accanto in maniera discreta. È la vocina di Siri che ci dice di non fare quella strada perché è arrivata segnalazione di un ingorgo e di farne una. Noi in quel caso non ci pensiamo. Se ci trovassimo di fronte a un universo Matrix, ci pensiamo e come. In quel caso non ci pensiamo, però è una logica spaziale che sta entrando. Perché la mia automobile si è riempita di una voce intelligente che mi fa pensare a delle alternative al tragitto che devo fare. Quindi Metaverso ci sta dentro tutto, ci sono tutte queste sfumature, che sono tutte in qualche modo appunto meta. La cosa che a me piace di più del termine meta è questa definizione di stare anche dentro. È qualcosa che si insinua nella realtà e che in qualche modo va a costringere la realtà non a dare spazio, a fare spazio, ma in qualche modo a mettersi in gioco, a ridefinirsi. Però è stare dentro se non vuoi, perché quando tu dici metacinema, perché fai metacinema? Per far vedere che tu sai prendere le distanze dal cinema, perché capisci il suo linguaggio. Che lo spettatore sa prendere le distanze. Tu regista e lo spettatore, cioè che tu sai il linguaggio e giochi con il linguaggio. Sì, però è la stessa cosa del quadro di Merleau-Monti, cioè quando lui dice che il quadro non è il quadro, il pittore, il pennello, ma è tutto, sta dicendo quella cosa lì, cioè che poi il quadro rappresenti la natura, faccia vedere quell'albero, i girascoli di Van Gogh, eccetera, eccetera. Però non è più importante quello in quanto universo alternativo, ma il fatto che la creazione del quadro ha costruito un sistema spaziale di riferimento che poi in qualche modo continua a dialogare con altri spazi attraverso il quadro. Ecco, secondo me è quella la chiave di volta. Poi ognuno la declina in maniera diversa. Gli artisti che usano la realtà virtuale cercano di essere in alcuni casi molto discreti, non so se avete visto esperienze magari di arte o di cinema, di realtà virtuale, e ci sono sempre due categorie, quelli veramente molto discreti, che i documentari 360 che cercano di farti stare nel mezzo come se non ci fosse niente, in maniera molto naturalistica, non c'è niente di meno naturalistico di una camera 360, di un casco, ognuno di quelli, cioè, però, c'è questa direzione. Oppure ci sono quei registi, quegli artisti che invece provano a farti fare dell'esperienza alla Matrix, no? È come se tu mettendo il caschetto prendi la pillola, non mi ricordo più, solo a blu quella per togliersi il velo di maia, e ti fanno fare quell'esperienza lì. Però sono sfumature della stessa dimensione spaziale, cioè sono parte di uno stesso meccanismo di logica culturale, spaziale e elettricitale, che nella nostra società trova modelli di applicazione e di costruzione applicative molto diversi. Ripeto, si può andare dalla casa che si anima virtualmente con i dati archiviati da Siri alla Smart City che ti avverte subito di quale parcheggio puoi trovare libero, di dove andare per prendere quella cosa, quell'altra, di dove lasciare l'auto, di che cosa fare e via dicendo, oppure può essere alla fermata dell'autobus giocare per dieci minuti a Roblox o a Fortnite, o può essere andare su WordChat per dire due scemate con gli amici virtuali tramite il tuo avatar, o quando c'era Vroom, entrare in Vroom e vedere il concerto di Jean-Michel Jarre assieme ad altre persone e fare la conoscenza con loro. Sono esperienze diverse, ma sono tutte accomunate dall'essere dentro una logica, a mio parere, non nuova perché, ripeto, arriva già dagli albori della computer graphic, ma che adesso sta emergendo con una potenzialità e con una capacità molto più forte. Mi vengono in mente le opere in augmented reality, come augmented reality city, che ci fanno vedere al parossismo che cosa sta diventando la nostra vita, tra messaggi, camere che ci riprendono, sensori che ci numerano per gli ingressi nei negozi, cioè siamo davvero in una dimensione in cui la maggior parte delle nostre esperienze digitali, con esperienze intendo produrre dati, fruire dati, scambiare dati, la facciamo in maniera spaziale, più che con le interfacce classiche a testo. Secondo me questo oggetto qua, mi spiace che Juan Carlos sia andato, ma lui nel suo libro lo dice benissimo, cioè questo oggetto è rivoluzionario anche per quella dimensione lì, che tu portando sul sempre dietro, il computing diventa un fatto di identità, spazio, spazio identitario, spazio di condivisione, spazio di allargamento dello spazio di relazione con gli oggetti, e via dicendo. Io qui dentro ho un'app che tra l'altro è usata proprio da Stefansson Villavise, tra gli altri, come metafora di quello che sta succedendo, che si chiama Animal Trek, dove puoi adottare un animale vero a cui è stato messo un sensore, non per gioco, perché avere sensore per gioco è aberrante, ma è stato messo dalle associazioni che salvano, cercano di salvare gli animali tracciando quelli in pericoli, via distinzione, tracciando i loro percorsi, e tu li puoi tracciare, puoi vedere, puoi adottare il falco reale, che quando l'ho conosciuto viveva a Cogne, adesso sta in Abruzzo, è bello, divertente. Però questa è una dimensione, una mia logica spaziale di espansione, del mio potenziale spaziale attraverso il digitale, che è molto diversa dalla logica un po' del primo Internet, che derivava le sue funzioni dall'enciclopenismo, dall'enciclopenismo secentesco, illuministico, nell'underkammer, io agglomero tutto in un posto e poi do delle mappe per poter prendere queste informazioni. Ecco, qui è una cosa un po' diversa, proprio esperire, fruire, condividere, partecipare e produrre contenuti digitali in una logica prettamente spaziale. Però mi sa che con questo, però ti ho risposto anche alla prima, l'unica cosa in cui non sono d'accordo è quello di dividere le esperienze spaziali. È vero che nella cattedrale gotica tu ci sei dentro, però è anche vero che in un quadro di prospettiva tu ci sei dentro. Lo capisco che è diverso. Eh no, però non è così diverso. Se vai a vedere la... Come si chiama quel tempietto che c'è su Via Torino a Milano del Bramante, se non sbaglio. È questa chiesa piccolissima. Se voi prendete dal Duomo, andate su Via Torino e subito sulla sinistra, voi andate, c'è una chiesa piccolissima, entrate nel cancello, c'è una porta molto piccola e voi guardate dentro gigantesca. Lo ricordate in Totò d'Arabia? Quando lui ha la tendina nel deserto, si apre e dentro ci sono 3.000 stanze. È uguale. Ma perché? Ma non è che è lunghissima, è che è stata costruita in modo tale che tu hai la visione, però tu in quel momento sei dentro e hai una percezione spaziale completamente simulata, illusionistica, ma ci sei dentro. e la dimensione della rappresentazione, della prospettiva era anche quella, perché non erano solo i quadri, erano anche delle architetture, le architetture disegnate, la Misanabin. Io ti sfido ad andare in una casa, stare dentro e vedere un bell'oggetto di Misanabin, un bell'oggetto, e accorgerti subito che è un falso, per tutto quello che può significare falso. Non è così immediato, non è così scontato. Quindi, che non ci sia l'esperienza spaziale anche in quello, no. Tant'è che, tra l'altro, la cosa bella della prospettiva è che, per esempio, per realizzarla si usano dei dispositivi, usano, i grandi della prospettiva rinascimentale, usano dei dispositivi tecnologici di base logico-matematica. Se vedete i disegni di Piero della Francesca, non sono più le anatomie di Leonardo, sono dei disegni con i punti numerati, la vettorializzazione, sembrano le cose che faceva appunto Myron Kruger quando doveva immaginarsi la computer grafica. E quello è un dispositivo tecnologico, cioè usare la matematica per costruire dei sistemi matematico-geometrici per poi fare... O Durer. Durer addirittura usa dei meccanismi, le camere, come si chiamano, le camere oscure. Cioè, lui disegna proiettando. Tra l'altro, se oggi uno proiettasse su una parete un'immagine e poi la disegnasse diremmo che è un pittore o un falsificatore. Durer fa esattamente questa cosa qua, cioè usa un dispositivo di proiezione, quindi un dispositivo illusionistico, simulativo da tutti i punti di vista. Addirittura viene calcolata come una delle macchine del precinema per fare la... per fare questa... o i teatri di esperienza, i teatri anatomici. Non so se qualcuno di voi è stato a... a... a Mantova. È rimasto l'unico grande teatro anatomico del Bibiena. Sono quei teatri in cui non avvenivano spettacoli teatrali ma si facevano lezioni di anatomia o esperimenti scientifici per gli studenti e tutti dovevano poter vedere cosa accadeva. È un dispositivo tecnologico pauroso di visione, visione e suono, che permetteva... perché il professore era lì che smembrava corpi e tutti dovevano sentire. Quindi c'era una costruzione del suono, che è una parte fondamentale del metaverso e della logica spaziale e della visione che è incredibile. Cioè la logica spaziale noi la portiamo dentro, cioè ce l'abbiamo, l'abbiamo in qualche modo nel nostro DNA culturale. Oggi sta emergendo dentro questo sistema di dispositivi che la realtà virtuale ha avuto il merito di aver innescato per prima. Però dobbiamo cominciare a studiarla fuori da questa dinamica di indicazione di un... E allora lì le metafore però ci stanno tutte. Ci sta la metafora di Matrix, che è una metafora ottima, ci sta la metafora di Existence, per chi è un appassionato di cinema, è il film di Cronenberg sui videogame, è una cosa... un film molto bello, c'è questo protagonista che entra nei giochi, nei videogame. Ma la cosa incredibile è che voi vi potete immaginare un film tipo il tagliaerbe Otrone, niente di più lontano, sembra un film realizzato da Calvino, ogni volta che lui entra in un'esperienza videoludica è un pezzo di cinema, quello che voi vedete è un segmento di un genere, c'è il genere Yakuza, c'è il genere guerra, c'è il genere noir, c'è il genere erotico, ci fa vedere come la simulazione del cinema sta dentro la logica del videogame, ma sta dentro anche le logiche dell'assimilazione interattiva, ma sta dentro e ci fa vedere come tutto è lo stesso, è la stessa matrice, è la stessa ampia organizzazione di realtà simulata che si descrive, si dipana, si declina in maniere molto diverse. Il cinema è stato una delle prime più importanti. se volete porre delle domande potrei con Simone dialogando come fra l'altro eravamo soliti fare, adesso è troppo tempo che non lo facciamo più, comunque prego. una domanda dato che mi sembra di vedere una definizione del metaverso che comprende diversi artefatti tecnologici, diverse modalità di intende la logica spaziale, non potrebbe però essere tra virgolette problematico, so che è una parola grossa ma per capire io per tutto, ma non potrebbe essere problematico accumulare una logica cioè affiancare una logica spaziale videoludica che non è definita testo ergodico di solito, quindi un testo alla fruizione non lineare dove l'utente fa non proprio quello che vuole e il punto è questo perché ci sono delle affordanze che gli permettono di interagire e può interagire solo attraverso regole specifiche del testo e non in altri modi nel senso che può chiaramente allontanarsi da una da una fruizione ideale da un vettore modello ma mai staccandosi troppo dalle regole non lineari cioè lineari per virgolette della fruizione quindi frisce in modo non lineare ma sempre attraverso le regole limiti che decidono gli sviluppatori e affiancare questo a una spazialità di tipo più pervasivo come può essere la smart casa la smart city o anche semplicemente il fatto che abbiamo uno smartphone e quindi che la parte spaziale è presente ma perché segue noi nel mondo reale non sono due logiche spaziali troppo diverse no ho capito quello che stai dicendo però due riflessioni so che non si fa ma provo a ributtare una questione su una questione primo però questo c'era c'è anche prima cioè il fatto che noi stiamo all'interno di architetture che in qualche modo definiscono ciò che si può fare o ciò che non si può fare cioè definiscono dei limiti visibile non visibile la storia del cinema è una storia di ciò che è visibile e ciò che non è visibile la storia del teatro è una storia di ciò che è visibile e ciò che non è visibile tant'è che tutto ciò che è visibile è in scena tutto ciò che non è visibile è osceno abbiamo addirittura preso dal punto di vista etico morale il termine osceno per definire ciò che non si vede quindi da sempre noi costruiamo delle architetture che danno e propongono dei limiti internet dà e propone limiti il sistema delle app dà e propone limiti tutto il dibattito che si sta facendo sulle intelligenze artificiali è dove sono i limiti e dove noi vogliamo dare i limiti cioè quindi quello è da sempre cioè la categoria del limite proprio nel senso etimologico prima confine è ciò che definisce il nostro sistema culturale da sempre qui ci sono soltanto dei limiti a mio parere diversi cioè che si declinano e produrano immaginari diversi l'altro è che proprio perché c'è questa sensazione si vede che sempre di più però si sta lavorando a cercare di abbattere sempre di più questi limiti per esempio pensiamo alla storia dei videogame da dei videogame molto concentrati molto centrati molto limitati addirittura le cornici quasi tutti i videogame avevano le cornici poi si è sviluppato con le storie la possibilità di partecipare alle storie il personaggio che può scegliere adesso ci sono addirittura i videogame cosiddetti generativi come No Man's Sky dove io oltre a combattere e a fare posso anche costruire qualche cosa su un pianeta e lo vedono tutti non è che quando poi spengo la mia base spaziale non c'è più diventa parte integrante virtualmente va verso l'infinito alla second life alla Minecraft e via dicendo quindi il fatto che ci sia un limite è dato anche dal fatto che sì ci sono i limiti ma c'è anche poi tutto un movimento che tende a o prova a travalicarli a distruggere poi sono impossibili perché appunto il nostro sistema culturale vive di limiti e di cosa è visibile è visibile che cos'è accessibile e non accessibile vi dicendo sul fatto videoludico io ho trovato interessante la riflessione dell'ultimo libro di Frank Rose Frank Rose è un antropologo delle narrazioni cioè lui è di formazione antropologo e si occupa di storytelling mi sa che ad Antonio non mi piace tantissimo sì lo facciamo adottare ah ok non so perché pensavo non ti no no nell'ultimo libro il libro del 2011 no questo è l'ultimo quello che è uscito due anni fa lui parte da un presupposto parla di immersività io dicendo ma ripropone pone dei dati interessanti un dato è una come si dice una ricerca che è stata fatta da alcune università americane sui giovani e gli hanno chiesto a dei giovani tra i 15 e i 20 anni fondamentalmente se si sentivano più rappresentati da delle estetiche realistiche o da delle estetiche smaccatamente e marcatamente non realistiche quelle degli NFT degli EIP dei giochi finto oggi non so che mi capita finto arcade e delicei è stato un tripudio l'80% si trovano molto più a loro agio con delle estetiche evidentemente finte bidimensionali dai colori saturi dalle forme non rispettate quindi uomini con la testa grossa e il corpo piccolino cioè si sentono molto più rappresentati vicini e familiari su delle estetiche completamente non realistiche e dicevano che questo derivava dalla loro esperienza videoludica il secondo passaggio che Frank Rose fa è su un'altra ricerca e dice qui però va declinato sullo statuto americano di cultura dice questa ricerca ci dice che le persone che stanno per prendere il potere negli Stati Uniti nel senso buono cioè quelli che stanno per occupare i posti amministrazione politici i posti di comando nella nostra società sono i ragazzi di 35 anni e questa è la grande differenza con l'Italia sono i ragazzi di 35 anni e questi ragazzi non hanno assolutamente una memoria cinematografica non hanno una memoria letteraria non hanno una memoria televisiva hanno una memoria videoludica che significa non solo hanno gli immaginari videoludici ma hanno anche e porteranno dentro i loro sistemi di lavoro le competenze e le dinamiche del videogame io questo non lo so non lo posso sapere riporto uno studio che Rose riporta rispetto alle università americane è credibile a mio parere cioè se io penso a come il novecento è stato condizionato dall'immaginario cinematografico l'immaginario che non esisteva ma che ha prodotto un immaginario che poi ha prodotto dei modi di pensare dei modi di vedere e dei modi di agire posso immaginare che in effetti tre generazioni di videogiocatori possano portare alla prossima generazione di amministratori delegati a essere più propensi a realizzare strategie di lavoro ad adottare tecnologie a costruire sistemi logici e vi accendo molto più legate alle pratiche del videogame piuttosto che al montaggio cinematografico mi sembra mi sembra plausibile però ditemi anche voi che lo sanno sì perché sono logiche molto diverse di studiare di pulire lo diceva già Manu cioè io quello che cerchiamo di dirti con la mia prima domanda sulla simulazione un po' anche va nella direzione della domanda che ti è stata posta da lui perché bisogna trovare il minimo comune denominatore fra questi due tipi di esperienze così diverse perché lo vedono tutti che sono completamente diverse cioè il videogioco e la smart room sono due cose completamente diverse secondo me quello che gli accomuna forse l'ho detto male forse la parola simulazione non è giusta però è l'idea che non sono la realtà nel senso che scignotano la realtà così come Google Maps non è la realtà cioè mi è capitato mille volte di essere lui è più realtà della realtà non lo so io ti dico io Google Maps quante volte mi è capitato di essere in autostrada vedere che è rosso davanti a me dire cacchio allora esco e mi faccio la statale poi guardo davanti a me non c'è nessuno dico ma quando è che arriva l'ingorgo vado nella statale guardo l'autostrada perché la statale va di che anche l'autostrada non c'è nessuno ingorgo quello ti fa capire che Google Maps non è la realtà anche se prende i dati dalla realtà dai cellulari e tutto è una simulazione della realtà che seleziona alcune cose che richiene significative della realtà fa dei calcoli e ti dice che la devi pensare che la realtà potrebbe potrebbe funzionare in questo modo il videogioco pure simula la realtà quindi secondo me la cosa che è stata difficile per me da capire di quello che ci hai detto tu oggi è qual è il minimo come un denominatore di queste esperienze perché tu dici che è l'esperienza spaziale no? però per esempio io mi chiedo ma il signore degli anelli che era basato su una mappa era un romanzo che era basato su una mappa e ti raccontava la storia di gente che si spostava in quello spazio è un'esperienza spaziale come la intendi tu? penso di no cioè penso che tu ci parli di spaziale è un'esperienza spaziale ma non è questa esperienza esatto perché tu dici ci dobbiamo allontanare dal testo dall'esperienza del testo internet alle origini ti dicevano che tu dovevi surfare io mi ricordo che cioè le highway esatto Netscape cioè quello che surfava parlava di strada esatto quindi anche lì c'era la metafora c'era la metafora spaziale ma tu ci stai parlando di spaziale c'è anche una spazialità diversa ecco ci stai parlando di spaziale in un altro modo questo è quello su cui facciamo io almeno faccio fatica a capire come ti devo allora ci sono due cose secondo me uno tu dici quando io sono dentro questi mondi non è la realtà però quando tu sei dentro questi mondi la tua esperienza e la tua modalità di pensarli è reale cioè tu vivi realmente tant'è che anch'io cambio strada perché Google mi dice che è rosso cosa c'è di più reale del capitato strada cioè la prospettiva non è Google in sé è il sistema che ha a fare con me con la strada con Google su quanto io penso sia importante Google nella mia vita quello è la realtà e in quello questo ne fa parte e la mappa di Google Maps ne fa parte e non è scendibile in quello che sto dicendo cioè non esiste soltanto il bianco e nero la simulazione totale o la realtà totale esiste oggi un sistema molto misto c'è questa parola brutta figital che viene usata che è urenna però è così cioè io ho un'esperienza vera anche quando so che è un'esperienza falsa cioè quando io faccio un'esperienza dichiaratamente falsa sono a casa mi metto il mio helmet entro dentro il film in realtà virtuale e so esattamente che sto facendo un processo di di entrate in un mondo falso ma nel momento in cui uno sono dentro lo esperisco come due se io immagino il sistema fenomenologico allargato l'Hermet è quello che l'Hermet fa vedere dentro la mia casa nel mio quartiere nel sistema torinese italiano europeo è realtà non è disconoscibile che la mia casa che è reale è concreta è fatta di mura è piena di libri allora che cos'è la realtà quei libri lì visto che parlano di posti non reali o di uomini che si svegliano sotto forma di scarafaggio rendono meno reale la mia casa o la mia libreria o la mia percezione della mia casa e della mia libreria no assolutamente no assolutamente reale quello che sto dicendo io è che oggi la logica spaziale del digitale è molto reale cioè la mia vita è fatta lì adesso fortunatamente da quando è nato mio figlio nuovo ho tolto ho silenziato tutto e vivo in una maniera bellissima silenziate che si ricomincia a vivere però è fatta anche di ting bip e che sono reali o non sono reali poi quando quel bip sto parlando con te e c'è un bip di mio papà che mi mette sempre in ansia perché c'è sempre un malanno allora io continuo a parlare con te però cerco di vedere il messaggio è no no tutto bene volevo solo sapere è reale quel messaggio è reale di mio papà o non è più reale perché è passato attraverso questo sistema probabilmente non è importante fare la categorizzazione di ciò che è reale è reale il sistema in questo momento e questo sistema è fortemente implicato dal digitale ed è fortemente implicato da un digitale che tende sempre di più a diventare sostanza spaziale questo è il mio punto poi non penso ai matrix rispondi alla domanda online che è davvero bella lunga ce ne è due ce ne è una scusate grazie Anna intanto si comincio a rispondere alla prima domanda di Anna Masera che tanto saluto allora è una bolla o non è una bolla è una bolla quella di Zuckerberg cioè il fatto che Zuckerberg avesse puntato fin dall'inizio a un sistema di realtà virtuale così definito cioè che poteva essere solo con l'headset che si faceva solo con gli avatar solo con la computer grafica e solo facendo quei mondi lì ed era per il consumatore quello è stato una bolla è evidente cioè non c'è nemmeno da parlarne i dati di vendita hardware e software sono lì a dircelo i dati irrisori delle piattaforme di metaverso in quel settore lì sono chiari non è una bolla e l'ultimo summit lo ha dimostrato perché sono decuplicati i sistemi il business sia per l'hardware che per il software invece l'utilizzo nell'automotive in scienza medicina nella didattica nelle scienze applicate nell'aerospaziale i volumi di come si dice di investimento ma anche di risultato economico di questi settori non è mai stato così roseo quindi è una bolla il l'avvoir consumer questo evidentemente ma c'era anche da aspettarsi cioè stare in casa con questi headset pesanti macchinosi in cui quando te li metti sei fuori dal mondo ma però nella realtà come si diceva prima non sei fuori dal mondo arriva tuo figlio ti dà uno sberlone e ti spaventi dieci volte di più perché sei lì che stai guardando lo spazio infinito e ti ritrovi le cinque dita sull'esperienza personale sul collo allora quel mondo lì è stato è stato narrato come se dovesse rivoluzionare la televisione il cinema è stata una bolla ma c'erano già tutte le come si può dire le avvisaglie io devo dire adesso mi prendo questa piccolissima parte di merito io quattro anni fa ho pubblicato un volume in cui ha partecipato anche Antonio Sant'Angelo un volume di ricerca sulla realtà virtuale che era stato pagato da Anica e dalla Rai in cui facendo vedere tutte le possibilità eccetera eccetera ma nella mia introduzione era chiaro cioè se la tecnologia rimane questa e se l'offerta rimane questa è una tecnologia che a livello di consumatore non ha nessun futuro nessuno e in questo sai invece i dati ripeto in altri settori sono incredibili non c'è un museo oggi al mondo che non abbia una sezione immersive ER MR VR VR eccetera eccetera e vengono anche prodotti tanti contenuti per quello o per il marketing e via dicendo quindi in quel settore lì tutt'altro che bolla nel settore appunto alla Zuckerberg sì obiettivamente poi c'erano le domande di Federico Biggio ciao Federico allora grazie come sempre troppo buono due domande allora con l'internet delle origini non lo so devo dire in tanti stanno facendo Federico mi chiede se ci sono è assimilabile in qualche modo il rapporto tra il metaverso e l'internet delle origini devo dire che in tanti stanno facendo questo parallelismo sinceramente non ci ho riflettuto più di tanto quello che vedo è che l'unico parallelismo che vedo che si ripete e vale non solo per l'internet è quello di una tecnologia che nasce con un entusiasmo dal basso attivisti hacker artisti eccetera eccetera che poi viene occupato in maniera anche pesante da subito dalle armate dei famosi 4 o 5 big tech in chiave economico commerciale lasciando sempre meno spazio alle opportunità di una di una dimensione altra questa è l'unica cosa che mi viene in mente cioè questa dinamica molto forte e che andrebbe analizzata bene di dialogo tra utopia e distopia che da sempre innerva la cultura digitale e che esplosa con internet evidentemente il caso emblematico è stato Negroponte che da uomo che salutava internet come svolta rivoluzionaria della coscienza umana poi ha ritrattato praticamente tutto accusandola delle peggiori cose al mondo questa è l'unica logica che vedo persistere poi altre andrebbero approfondite un bel tema la seconda concerne il concetto di proprietà sempre in relazione all'internet delle origini al peer to peer dopo l'economia dell'accesso abbiamo una nuova economia della proprietà privata sul metaverso assolutamente sì ed era quello che dicevo prima anzi tutto il discorso sulla virtual reality sul metaverso ha avuto solo inizialmente da parte di alcuni artisti e da parte di alcuni attivisti questa idea di smarcarsi da subito dai mercati magari accedendo a dei mercati economici alternativi bitcoin gli mft eccetera ma è è stata una cosa che è durata pochissima poi si è subito cominciato a parlare di soldi di fatturazione di proprietà di occupazione del territorio però questa è una dinamica c'è è presente forse l'ha chiesta più a Fisher che a me però noi gliela possiamo più chiedere è rimasto attivo di quel gruppo lì Land forse si può chiedere ma ha preso altri altri lead no rimane molto attivo Alexander Galloway per esempio che a me piace molto che sta lavorando proprio in quella dinamica lissia sugli algoritmi che sul videogame ci sta lavorando tanto però mi sembra che anche Kate Crawford da un certo punto di vista ci sta lavorando tanto sulle proprietà del del digitale i risultati di Kate Crawford devo dire non sono molto molto positivi allegri mettiamola così eh sì vedi Anna Anna ci faceva l'esempio Anna Masera faceva l'esempio appunto di chi nasce con una con una logica ben determinata all'interno dei videogame e poi tende a riprodurre è vero è vero c'è anche in Italia benissimo forse Giacomo volevi dire qualcosa eh tanto non saprei ecco io ho un po' di ci sono delle cose su cui sono in disaccordo devo dire in parziale disaccordo non so proprio però ho un po' la cosa vediamo cosa ne dice vari argomenti su varie tematiche trattate dalla presentazione comunque è molto interessante e di ottimo allora prima cosa su cui sono un po' disaccordo è il discorso di Second Life nel senso che Second Life secondo me non fu un successo cioè tu hai presentato come fosse un successone Second Life fu uscito nel 2003 nel 2004 fu uscito un certo World of War che ha fatto vedere cosa voleva dire avere veramente successo nel mondo di Oteguardi non era certo Second Life Second Life però aveva anche perché nel quale collegato la particolarità di Second Life che in parte secondo me poteva essere la peculiarità del metaverso interpretato da Zuckerberg poi assolutamente non verificato l'importazione degli asset custom è quella tutta la differenza del mondo la fa con la roba lì perché finché tu sei all'interno di una cornice predeterminata cioè tu hai questo lo sviluppatore ti ha dato questi strumenti questi sono oh non vuoi un altro devi aspettare che lo sviluppatore te ne aggiunga un altro tu non puoi farci nulla chiaro invece il Second Life ti diceva guarda che tu puoi importare i modelli da 3D Studio Max dalle origini le texture facci prima cosa che hanno fatto le stesse cose che disegnano sui muri dei bagni ovviamente quindi Second Life non ha avuto successo perché non era family friendly no evidentemente c'era la gente che faceva il format e l'interam su Second Life quello che oggi si fa su DR Chat comunque ma con addirittura anche l'importazione degli asset custom quindi si avevano a mettere la roba fuori in testa di conseguenza Second Life è sempre rimasta una roba un po' di nicchia io faccio presente lo citavo anche nello studio che avevo fatto Second Life c'è stato qualche visionario c'era il nostro Antonio Di Pietro che è quello passione a campagna di Torre d'Andrea che è un comizio su Second Life quindi comunque questo era il 2008 se non ormai cioè è vero è che ha avuto un certo successo però era un po' di nicchia e spesso quando sentivi io giocavo gli videogiochi fin da una vita ormai buttata la vita al passare gli videogiochi comunque la gente che diceva io gioco a Second Life li vedevi un po' come se fossero dei graietti ma ho proprio per via di questa cattiva monea che avevo comunque più dognapito Second Life scusa posso rispondo proprio hai ragione hai assolutamente ragione la parola successo andava declinata successo lo intendevo allora Second Life è stata nel 2008 e 2009 la parola dell'anno per Times se questo non è un successo poi tutto quello che tu dici è vero hai ragione però per quei due anni non si è parlato d'altro cioè la mostra del cinema di Venezia di Cannes e di Berlino ha aperto su Second Life ma nonostante ci fosse già World of Warcraft ci sono stati musei che si sono trasferiti su Second Life Sony poi che a livello economico commerciale di appeal sui videogiocatori su questo sono strada accordo con te no e poi è obiettivo cioè non abbia avuto successo e anche a livello di business non abbia avuto successo anche se due anni fa avuto una ricapitolazione e tu non ricapitoli qualcosa che è certo era trovato di modo al metale e adesso hanno provato a rilanciare però il fatto che ci sono state etichette discografiche che hanno aperto CBS ha aperto un proprio distretto dentro l'Università di Torino l'Università di Torino no io successo lo intendevo in quello è stata una cosa che ha attirato un'attenzione smodata persino come dici giustamente ma è stato un trendsetter al punto che tu ci fai con i concerti di Fortnite che non c'entra niente con il Metaverse anche se si inventano che a Metaverse il videojoco Fortnite però durante il Covid c'erano i concerti su Fortnite c'erano non so se tu Alipa che è andata a fare il concerto su Fortnite Travis Scott ecco bravissimo comunque sono un po' fuori da la musica moderna ma comunque questo è il primo primo tema secondo tema Metaverse che cos'è il Metaverse proprio nel termine logico e questo non sa nessuno tu hai provato a definirlo in certi modi sono anche piuttosto d'accordo pongo solo una questione che è collegata a quanto dicevi tu Antonio sulla parola Meta allora Metaverse per me è innanzitutto cioè lo spettro del Metaverse si realizza nel momento in cui c'è l'interoperabilità cioè tu hai un Metaverse non dieci uno come è uno inter-Metaverse ad esempio il Troyes a Onion da Web quindi non è neanche uno inter-Metaverse però mettiamo che sia l'intero e lì qualsiasi cosa che viene da una parte da un terzo sviluppatore da un asset custom viene importata ed è funzionale all'interno di tutta la cornice del Metaverse cosa che oggi non succede per cui anche gli NFT per esempio tu hai gli NFT di un Metaverse che dovrebbero stanziare la tua proprietà su quella bene digitale poi però provi a trasferirvi su un altro Metaverse ma puoi quindi dove sta l'intero non c'è il Metaverse io che sono un videogiocatore nerdone trovo anche che all'epoca la parola Metaverse era stata scelta perché su internet si diceva tanto di questo Meta ma non inteso come il Meta del Meta Teatro del Meta Cinema eccetera ma quanto piuttosto del fatto di il Meta è un termine difficile da tradurre ma è diciamo la concezione per la quale si fanno le cose nel modo più ottimale possibile anche violando o comunque forzando i confini del mondo di Erguale o comunque delle regole del gioco per esempio Monopoli gioco la tavola qual è la strategia meta di Monopoli la strategia così la strategia meta di Monopoli è comprare il più in fretta possibile tutte le case che ci sono perché perché guadagni no perché non ci sono i modelli sono limitati quindi se le hai comprate tutti in Tuglia non le possono comprare e perché sono finite non ci sono 10-12 case nel Monopoli 5 alberghi 6 alberghi se li hai presi tutti in Tuglia non le possono più comprare e questo è giocare nel Meta allora questo concetto ovviamente piaceva e piace ancora oggi moltissimo perché oggi è l'epoca non dell'ottimizzazione totale quindi ecco come mai anche Zucker perché non è un cretino dal punto di vista del marketing ha detto facciamo leva anche sulla parola meta che piace tanto ai videogiocatori abbiamo questa cornice giocosa e così l'ultima roba che voglio dire aspetta un attimo possiamo al volo su alcune cose c'è proprio un punti no no su quella cosa quello che dici sulla definizione di metaverso io sono d'accordo con te lo dicevo già prima metaverso è una prova molto brutta molto bisogna soltanto essere d'accordo tu dici che il metaverso si ottiene con l'interoperabilità modello ball chiamiamolo interoperabilità io dove si firma chiariamoci però facebook fa il gioco perché prima lo chiama metaverso e dice che è solo quello adesso dice che il metaverso esiste solo se esistono tanti metaversi sentito all'ultima conferenza cioè mettiamoci d'accordo vogliamo chiamare metaverso interoperabilità chiamiamolo inter così facciamo contenta anche una parte d'Italia chiamiamolo inter e chiamiamo questo per me la questione di definizione è veramente secondaria quello che io sto soltanto dicendo è usciamo però dalla logica di avere un termine che descrive una tecnologia o una funzione tecnologica e proviamo a vedere se invece stiamo all'interno di una rivoluzione delle funzioni indipendentemente dalle tecnologie che stanno usando io penso di sì allora questa io la chiamo metaverso perché è il termine che in qualche modo a partire da Stefan Sonvilla Weiss per quanto mi riguarda è quello che prima e meglio è andato a definire questo mondo però sul resto sono d'accordo con te io su questa cosa di me l'avevo sentita anch'io e penso che hai della ragione c'è anche un'altra ragione ma Zuckerberg l'ha detto chiaramente allora Zuckerberg si sente un iperintellettuale perché si sente tale e lui gli stava sulle balle di non aver fatto nessuna definizione che avesse una aura letterale ma come Gibson di ciberspazio e si è andato a prendere Snowflare l'ha trovato era pronto era perfetto secondo me una parte di quello era come i romani che si sono inventati l'eneide per dire noi veniamo dai no eravate dei contadinacci ma che male c'è e no non si poteva bisognava darsi una un carattere letterario ed ecco che Ettore che arriva e sposa la vigna e crea la Gense Libia romana eccetera eccetera e lui ha fatto per me ma lui l'ha detto anche più volte nascosto nelle frasi l'ha detta come il saggio spazio di Gibson io mi sono inventato era un po' quella cosa lì poi non cambia nulla è molto bello questo ci ripeterò l'ultima cosa che dico semplicemente per capire forse meglio questa intersezione che ci è giunta alla fine della presentazione è stato recitato l'intersezione quasi orrorifica tra il virtuale e il reale tra il livello e il vetro non so no eccetera c'è un bel film nel 1998 che si chiama Darkissimi di Alex dove c'è a un certo punto una scena che noi i videogiociatori chiameremo la scena del no clip è clip in zero vuol dire le collidere quindi quando c'è il no clip vuol dire che all'interno di un mondo virtuale si oltrepassano i muri gli ostacoli quindi si esce dalla mappa e in Dark City c'è esattamente questo è curioso semplicemente il fatto di dire che negli spazi liminali transitori per definizione la vita reale già un po' inquietanti di loro grazie appunto a questo digitale c'è stato c'è stato un'interior iniezione che paradossalmente non è neanche un'iniezione che noi vediamo comunemente nei prodotti perché appunto ci vuole un comando per andare in un clip non è una cosa che tu apri il mondo virtuale e vedi diciamo il dietro del video del video gioco e bravo ci capiti per accidente esattamente come avviene in Dark City nel 1998 quindi te consiglio perché ci ha prodotto grazie è questo e nel film delle peccate questi vent'anni dopo Dark City grazie che mi hai ricordato un film che mi era piaciuto tanto ai tempi e tra l'altro ha una bellissima liaison perché Alex Proyas che è il regista è quello che ha sdoganato e l'avatar al cinema perché è il regista del corvo e gli morì il protagonista e dovette costruire con uno stuntman e dei ritocchi al digitale furono i primi ritocchi al digitale per ricostruire Brandon Lee che era il protagonista del corvo quindi c'è una una liaison la vera domanda è ma che film ha fatto Alex Proyas io non vedo più film Alex Proyas mi piaciò sarà invecchiato sarà invecchiato non avrà più voglia si aveva lamentato i soldi grazie ti chiedo un'ultima cosa abbiamo 5 minuti non so se c'è qualcuno che vuole ancora interagire sì ecco questa cosa della backroom anche io la volevo un po' approfondire perché penso che la backroom sia anche un tipo di esperienza che ti rende consapevole di come funziona il mondo nel quale ti trovi e e quindi ritorno di nuovo all'idea di meta che ti ho proposto prima io mi chiedo ma perché ci interessa il metaverso oggi per caso ci interessa perché attraverso queste simulazioni del reale nelle quali ci medesimiamo come ci succede per esempio quando giochiamo perché quando giochiamo ci medesimiamo molto quando giochi a calcio vuoi ammazzare il tuo avversario io ho sentito ma io no stai giocando ma comunque stai vivendo un'esperienza che ti sembra ultra reale però poi alla fine ecco anche il calcio lo usiamo come metafora per capire chi siamo ecco nella società in cui viviamo ci piace immergerci in queste simulazioni del reale oppure in questo reale che è aumentato di dati che comunque simulano il nostro modo di stare al suo interno perché poi non è che ovviamente selezionano alcune cose e altre le lasciano fuori ci piace tutto questo perché così poi ci specchiamo capiamo ci svegliamo grazie a questa esperienza della Becron diciamo sono così io la realtà è così la Becron è un'esperienza veramente di mitia cioè stiamo parlando di una cosa per attivisti eccetera noi non ci facciamo tanto la domanda su se ci piace o meno ci stiamo dentro questa cosa qua a me quello che mi interessa è per esempio proprio per venire al mondo degli studi sui videogame è quando Alfie Brown che è un filosofo inglese che studia i videogame dice i videogame per me sono l'oggetto di studio preferenziale perché perché sono il momento in cui il capitalismo dispiega la sua capacità di intervenire nel mondo lui dice il videogioco non è soltanto il luogo dove noi andiamo a divertirci sono le regole algoritmiche per stare al mondo il videogame rappresenta le regole e io penso che la logica spaziale quindi videogame più sensori più metaversi più o meno in VR FIGITAL eccetera siano la ulteriore più raffinata espressione di quella logica capitalista algoritmica di cui parla Alfie Brown e per rispondere ancora di più a quello che dicevi tu c'era un testo degli anni 90 di Catherine Hayes che è una delle madrine fondatrici dello studio sulle tecnologie digitali che a un certo punto dice che guardate internet e il digitale non è altro che il punto di incontro tra i nostri immaginari e le nostre pratiche cioè è quella tecnologia che non dispiega più una differenza tra l'immaginario e la pratica è allo stesso tempo un luogo che noi immaginiamo creiamo abbiamo immaginato prima e continuano a produrre come immaginario immaginazione ma allo stesso tempo è una pratica ma non è mai successo nella storia della tecnologia che ci fosse una convergenza tra un sistema di produzione di immaginari e un sistema di produzione di pratiche dove le pratiche producono gli immaginari che a loro volta hanno costruito quelle pratiche su cui noi costruiamo gli immaginari e guardate che questo nella logica spaziale del digitale secondo me è molto forte ed è qualcosa di nuovo su cui è interessante andare a mettere le mani benissimo ragazzi io faccio le 18.58 non so se avete qualche altra cosa da chiedere a Simone se non ci avete io ho ufficialmente chiesto la Molesky il compito è un onore insomma questo mi avrà catalogato alla fine comunque ringraziamo tanto Simone per essere venuto con noi ringrazio anche voi di aver partecipato e ci vediamo al prossimo che è a luglio 10 10 luglio grazie ciao ciao grazie grazie Grazie.